Ciao YouTube! Oggi parliamo di poppe di calore, aria e acqua. Qui abbiamo l'ennesima zubada con modulo idronico costruito in opera, molto compatto, spessore dal muro circa 16 cm, larghezza 120 cm, altezza 60 cm. Andiamo a vedere l'unità esterna e qui in prossimità. La macchina è appena accesa, fuori chiove, una marea di condensa. Anche per oggi questo è tutto. Un freddo saluto dalle coline emiliane. Ciao YouTube!